Ciao amici e bentrovati sul nostro canale! Avete voglia di un'alternativa al caffè leggera e sfumosa? Ebbene oggi vi proponiamo la fantastica crema al caffè! Si tratta di una ricetta semplice, veloce e che si fa con soli tre ingredienti, caffè solubile, acqua e zucchero ed è la portata di tutti! Iniziamo! Qui abbiamo del caffè solubile, per chi non lo sapesse si presenta in questo modo. In una ciotola mettiamo 100 ml di acqua, 150 g di zucchero e 20 g di caffè solubile. Mescoliamo con le fruste elettriche per circa due minuti, fino a raggiungere una consistenza liscia e spumosa. Guardate che bella consistenza liscia e soffice, sembra proprio panna montata! Mettiamo nel bicchiere e voilà! Ecco la nostra crema a caffè pronta! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, se è l'assaggio e adesso gustiamo insieme questa meravigliosa crema al caffè. cosa posso dirvi è talmente soffice che sembra di mangiare una nuvola poi il gusto del caffè fresco è qualcosa di straordinario è leggera, vellutata e super cremosa insomma cosa posso dirvi è assolutamente da provare bene amici il nostro video si conclude qui vi piace il nostro canale? iscrivetevi e lasciateci un mi piace è sempre gradito, ci vediamo al prossimo video